Un po', come dire, nella fase dell'autorizzazione al funzionamento. Pensiamo che nel giro di intorno a 60 giorni di poter aprire la struttura. Diciamo che ci sono due tipologie. Una per quanto riguarda i soggetti che vengono associati alla ASLE, quindi tutte le terapie vengono garantite dalla ASLE e poi due, diciamo, comma 1 e comma 2 che pagano direttamente alle famiglie per quanto riguarda le varie terapie e la presenza all'interno della struttura. Stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando con l'Unione dei Comuni, stiamo lavorando con la ASLE. Non è un percorso molto semplice e veloce, però contiamo di riuscire nel breve periodo a sistemare anche queste cose e quindi dare un servizio completo a 360 gradi alle famiglie.